Rolex Submariner Date, eleganza senza tempo. Il Rolex Submariner Date è un'opera d'arte nell'ambito dell'orologeria di lusso. Questo orologio incarna la fusione perfetta tra un design intramontabile, una leggibilità impeccabile e una versatilità senza pari. Il Rolex Submariner Date è caratterizzato da linee pulite e chiare, che conferiscono a questo orologio un'estetica intramontabile. Il quadrante è un esempio di leggibilità eccellente, con indici e lancette luminescenti che permettono di leggere l'ora in qualsiasi condizione di illuminazione, inclusa l'oscurità sottomarina. La lunetta girevole unidirezionale è un elemento fondamentale per chi pratica immersioni subacquee, consentendo di tenere traccia del tempo trascorso sott'acqua in modo preciso. Una caratteristica distintiva del Rolex Submariner Date è la finestrella che mostra la data, posizionata a ore tre. Questo dettaglio funzionale aggiunge un tocco di praticità a un orologio altrimenti elegante. Questo modello è stato progettato con l'obiettivo di unire funzionalità e stile, rendendolo adatto sia alle immersioni subacquee che alle occasioni formali. La sua capacità di adattarsi a diversi contesti è una testimonianza della versatilità dell'orologio. Negli anni, il Rolex Submariner Date è diventato sinonimo di prestigio e raffinatezza. La sua presenza al polso è un'affermazione di successo e buon gusto. L'eleganza e il prestigio del Rolex Submariner Date non si limitano all'aspetto esteriore. Questo orologio offre prestazioni eccezionali che lo rendono ideale per l'uso subacqueo e non solo. Con una resistenza all'acqua fino a 300 metri di profondità, puoi affrontare esplorazioni subacquee senza preoccuparti delle condizioni. Il movimento automatico di precisione garantisce una misurazione affidabile del tempo, indipendentemente dalle sfide ambientali. Acquistare un Rolex Submariner Date non è solo un acquisto, ma un investimento. Questo orologio di alta qualità manterrà il suo valore nel tempo, grazie alla sua raffinata estetica e alla tecnologia all'avanguardia. Possedere un Rolex Submariner Date è un motivo di orgoglio, un'eredità che puoi passare alle generazioni future. Grazie a tutti.